le quattro macchinine e lo strano caso delle palline colorate ciao siamo a spasso con le nostre amiche ma attenzione il semaforo è rosso ora giallo verde e via di nuovo a spasso fino ad arrivare nel parco giochi che succede le palline della piscina sparse ovunque ma hanno buttato giù l'altalena oh guardate anche il recinto e continuano ad uscire dai buchi della piscina una cascata di palline belle macchinine dobbiamo riparare tutti quei buchi la macchinina rossa prende un cerchio rosso no non è il suo posto trovato cos'è quello un rombo ha trovato una formina a di rombo presto macchinina gialla le palline stanno uscendo c'è un buco a forma di rombo sì è proprio lui macchinina verde qui c'è una formina quadrata vediamo se c'è un buco corrispondente wow perfetto resta il buco a forma di triangolo e la macchinina blu ha trovato la formina giusta entra perfettamente nel buco triangolare ce l'abbiamo fatta ma adesso dobbiamo riportare tutte le palline dentro alla piscina ottimo lavoro macchinina rossa la paletta è di aiuto macchinina blu non è troppo pesante no riesce a raccogliere gli alberi caduti e li ripianta dove erano al centro dell'aiuola il cestone dei palloni si è rovesciato e la macchinina verde lo rimette come deve stare con dentro il pallone ma anche il secchiello e la paletta vanno rimessi a posto rimettere in piedi il recinto però non è facile ehi qui c'è bisogno di aiuto eccolo spingete sì che meraviglia ottimo macchinina gialla ma tirare sulla telena da sola non puoi farcela in due è tutta un'altra cosa e adesso è il momento dei blocchi per ripristinare la piscina ce l'abbiamo fatta il parco giochi è pronto per divertirci nella prossima puntata ci vediamo tutti qui sì a presto ciao 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 ciao